E' assurdo avviare procedimenti giudiziari nei confronti dei medici che stanno operando in prima linea per dare il giusto impulso al programma vaccinale in Italia, additandoli come responsabili delle conseguenze imprevedibili dell'inoculazione del vaccino. Non possiamo trasformare i medici da eroi a imputati. Così il medico chirurgo Tommaso Pellegrino, capogruppo d'Italia Viva nel Consiglio regionale della Campania, che auspica che il governo intervenga al più presto garantendo le opportune tutele a tutti coloro che sono impegnati nella campagna vaccinale, così da superare questa clamorosa ingiustizia che rischia di rallentare ulteriormente la corsa al vaccino. Dopo lo stop dell'AIFA dei vaccini di AstraZeneca, la campagna di vaccinazione è tutta da rimodulare. Regioni alle prese con lo slittamento delle procedure per le prenotazioni. Tanti coloro che hanno già ricevuto la prima dose e che si chiedono cosa accadrà per la somministrazione della seconda. Al momento le certezze che le vaccinazioni con Pfizer e Moderna continuano, mentre gli appuntamenti per AstraZeneca slitteranno almeno fino al parire dell'EMA, che si confida possa arrivare in tempi brevi. Un verdetto che se non dovesse consentire il prosieguo della somministrazione, non impedirà comunque di completare la vaccinazione per quanti hanno già ricevuto la prima dose di AstraZeneca, anche se con un vaccino diverso. Lo ha ribadito ai nostri microfoni anche il presidente dell'Ordine dei Medici ed Odontoiatri della provincia di Salerno, Giovanni D'Angelo. Questa cosa ha un poco, diciamo, creato preoccupazione e panico in alcuni. Posso dirle che, anzi forse non è corretto, ma voglio dire, qualcuno della mia famiglia ha fatto proprio quel set, quell'otto di vaccini dell'AstraZeneca. E ciò nonostante, insomma, voglio dire, grazie a Dio, fino a dopo non è successo nulla. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando si fanno dei vaccini che sono di nuova produzione, non dobbiamo guardare per esempio al vaccino dell'influenza. Quello è datato da anni e anni e anni, è sottoposto chiaramente a variazioni a seconda della tipologia del virus che attaccherà l'influenza, però sostanzialmente ha una base solida. Ora noi stiamo, in qualche modo, vaccinando su un virus che neanche è conosciuto fino in fondo. Quindi delle cose possono sfuggire. Ma io sono del parere che ci sono delle ragioni e delle metodologie di analisi di questo problema. Uno è quello di aspettare, verificare sui decessi quali sono le ragioni vere o le ragioni particolarmente vicine alla verità che hanno causato il decesso. Verificare se quelle cause non possono essere con causa, ma non causa. Perché se io ho un difetto coagulativo e questo virus inoculato, l'adenovirus modificato, può aver dato, come dovrebbe dare normalmente, un fatto di evento infiammatorio, se su tutti, una buona parte, hanno fatto 15 milioni di persone questo vaccino, non ha mai generato questo problema, probabilmente ci possono essere delle ragioni in situ, cioè sulla persona, non una ragione generalizzata. Sicuramente serve cautela. In tanti oggi si chiedono chi già ha avuto la prima somministrazione e cosa accadrà quando poi ci sarà il richiamo. Sì, se lo chiedono, ma la soluzione secondo me la dobbiamo vedere a breve, cioè perché probabilmente non penso che loro potranno mantenere questa questione per lungo tempo non dissolta. Tutti in campo per somministrare vaccini in ogni dove, studi, medici, luoghi all'aperto, insomma bisogna fare in fretta. Dico come il generale, l'ha sentito cosa ha detto, no? Ha detto prendete qualcuno che sta passando, se vi è rimasto qualche fiale, e fategli il vaccino. Ovviamente non vogliamo ridicolizzare, nel generale voleva dire questo, ma voleva dire che in ogni caso qualunque modo, qualunque forma, ovviamente nei limiti del rispetto delle modalità, diciamo, di sicurezza, va utilizzata per accelerare quanto più possibile la vaccinazione, sia nel numero, sia chiaramente nella tipologia, nel senso che va benissimo, arriverà la Johnson & Johnson, dovremo servirci, non possiamo scegliere come si va su un banco, diciamo io voglio questo anziché questo. Le dosi sono quelle, arriveranno di volta in volta a dosi differenti, ci adatteremo, anche perché i valori di ogni vaccino sono sempre superiori a quelli che sono dati come sicurezza rispetto alla possibilità che si attui il fenomeno del greggio.